Il consorzio di bonifica comprensorio Sarno è stato chiamato dalla commissione parlamentare sulle eco-mafie che in questi giorni è in Campania. L'indagine riguarda gli sversamenti illegali nei corsi d'acqua che attraversano l'agro nocerino sarnese. Venerdì prossimo il commissario Mario Rosario D'Angelo dovrà illustrare tutte le attività messe in campo per frenare l'attività delle eco-mafie. Noi siamo coinvolti marginalmente come soggetto danneggiato per quanto riguarda la situazione dell'inquinamento ambientale su tutti i territori. Faremo presente alla commissione ambientale tutta l'attività di monitoraggio che facciamo sui nostri canali. In particolare abbiamo l'esempio dell'ultima attività dell'ultimo mese del canale San Tommaso che ha delle criticità gravissime per quanto riguarda come sversatoio di fognature eccetera. Quindi c'è un inquinamento biologico sostanzialmente altissimo. Non sappiamo anche di materiali pesanti o altro. La polizia idraulica in quest'ultimo mese su questo canale in particolare ha elevato più di 150 verbali in merito al nuovo regolamento di sanzioni che ha fatto il consorzio che ha quintuplicato le sanzioni per chi sversa in modo illegale o inquina all'interno dei nostri canali. Che loro fanno ricerche su poi le malattie, le conseguenze che può essere l'inquinamento sul territorio. Ne potremmo comunque rappresentare loro stessi e questo comunque incide fortemente su quella che è la salute dei singoli cittadini e delle popolazioni che vivono nei nostri territori. Dall'inizio che siamo insediati l'amministrazione ha cercato di lavorare d'intesa con i comuni, con l'ente parco regionale di Fiumesano, il quale ci ha dato una splendida mano e aiuto per segnalare e sanzionare quali erano quegli sversamenti abusivi all'interno dei nostri canali, segnalato da giudiziaria competente con denunce, esposti, particolareggiate su qualora ci fossero delle notizie di reato gravi e degli illeciti penali. La cosa dice le maggiori criticità dove sono state riscontrate? Su Canale Santo Maso penso che è conosciuta e ovvia come situazione perché è un canale praticamente, possiamo dire, quasi una fogna a cielo aperto sostanzialmente. Anche sul Fosso Imperatore dove ci sono state segnalate moltissime situazioni da parte dei cittadini, il consorzio si è mosso dall'inizio con una conferenza dei servizi, adesso sta concludendo nel giro di qualche giorno, concluderà l'iter sul Fosso Imperatore e quelle che sono le sostanze delle analisi che poi abbiamo eseguito come parte soggetto leso all'interno della stessa area, ma ci sono altre aree, canali che sono nella città di Sarno, di Castel San Giorgio, che purtroppo molto spesso diventano dei ricettacoli di rifiuti o di sversamenti anche illegali da parte dei cittadini o che comunque commettono reato in modo inqualificabile senza essere poi ovviamente sanzionati.